Ciao ragazzi, sono Hotaseroci, rieccomi con un altro video sul mio canale Rieccomi dopo un bel po' di tempo di assenza Per motivi vari che vi ho elencato nei blog precedenti Che vi ho caricato in questi ultimi giorni Ok ragazzi, dopo tanto tempo, finalmente sto con un nuovo gameplay Un nuovo modo di registrare per i miei iscritti Tipo sanzione, la facecam Mi sono aggiornato ragazzi, ho preso una webcam della Logitech La C930E Devo ancora capire come utilizzarla e sfruttarla al massimo Perché sinceramente ancora mi sto martellando la testa E ancora veramente non capisco come Non ho ancora capito come tirare il meglio di questa webcam Perché comunque i software della Logitech fanno veramente pena Un'altra cosa ragazzi, stiamo utilizzando anche questo Spero che non mi caschi il mondo qua Ti giochi, ok Il gatto, Game Capture HD60 Abbiamo fatto questo ultimo upgrade per la console Insomma, per la PS4 Allora ragazzi Voi direte Insomma, sto facendo questo nuovo gameplay per mostrarvi come è Planetside 2 Un gioco uscito da ieri Da ieri o l'altro ieri Purtroppo doveva uscire molti giorni prima Purtroppo per motivi di problemi del server europeo Non ci permetteva di entrare Quindi questo gioco è uscito in realtà 3 giorni 3 giorni No, questo gioco è uscito realmente 3 anni fa Per il PC Quindi è un free to play Un FPS MMO Insomma, un gioco gratuito Però abbiamo aspettato per la versione console Per la PS4 2-3 anni Perché vi ricordo Appena uscito la PS4 Avevano annunciato che Planetside 2 Doveva essere esclusiva per la PS4 E ecco Finalmente Eccoci qua Ragazzi Vi ho spiegato che questo è un FPS MMO Più o meno Mi fa ricordare Per qualche filmato che ho visto Mi fa ricordare molto Meg Meg era un gioco Così Un FPS MMO Enorme Per la PS3 E Che Poteva Potevi giocare 32 vs 32 E era veramente Un gioco enorme Purtroppo è stato molto Snovato dalla gente E è stato giocato molto poco Anche perché Diciamo Aveva anche le sue pecche Quindi Bado alle cence ragazzi Iniziamo Con questo Planetside 2 Ah, vi dicevo Che siamo a fessante FPS Quindi possiamo Andare Liscio Sulla console Ok ragazzi Abbiamo qua tre fazioni Del quale sono Sovranità Banu Repubblica terrestre E Nuovo Conglomerato Insomma Per quello che sto capendo Più o meno Nuovo conglomerato Insomma Mi fa capire Che sono parte dei ribelli Che se vogliono Rivelare A quella che sarebbe La Repubblica terrestre Insomma Un po' I dittatori del pianeta Insomma O il pianeta dove noi siamo Questa fazione Mi sembra Un po' Molto più Tecnologica Molto un po' Più aliena Mi sembra molto più Terrestre E questa qua Il nuovo conglomerato Insomma Serve proprio La versione Come ti posso dire I Terran Di Starcraft Più o meno Perché Vedete anche Quel carro armato Dove c'è scritta La parola Freedom E questa qua Sotto Da questo Soldato Uno della Repubblica terrestre Quindi penso che Mi attizia molto Questa fazione Penso che Sceglierò Sceglierò Questa Lightcorp Mettiamo Shura Ci farà Entrare Uh Sì 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 Ci ha fatto entrare Finalmente Dopo 5 minuti 10 minuti Di attesa Ok ragazzi Rieccomi Qui E Devo capire Difendi Console di controllo Ah ci hanno buttato Direttamente Gli alla mischia Qua è dove si Prende le nuove Le armi Ah Una delle terminali Pi' importanti Terminali Con il pagamento Questa terminali La devi usare Per i buoni Munizioni Cambiare classe O cambiare le armi Utilizzate E Interagisci Ok 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 Questa insomma Ha bisogno di Money Per poter Cambiarle Però per il momento Andiamo con le armi Standard Perché ovviamente Siamo appena Abbiamo appena iniziato Ok Vedo questo tiso E qua cosa fa Ehm Buttiamoci Ehm Ok Questa è la mappa Insomma Quindi le nostre Fazione La nostra fazione Insomma Ha conquistato Sia Console di controllo Che C E poi A Noi dobbiamo Insomma Dobbiamo andare Da salto Verso B Vediamo Ragazzi Mamma mia Eh posso scendere Di qua Sto cadendo Mamma E quanti Player siamo Attrissatura aerea Veicolo Fanterie Deposito Ma cosa è sta roba Wow Ragazzi Io sto Veramente Io sono Veramente Perso Ah Eh Sì Va bene Dai Ma quanti siamo Siamo Ok 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 Che cazzo Sparate Un lane Fondo Credo Credo che Questo Gogo Va Più Giocato Con tanta Gente Con tanti Conosciuti Perché Adesso Come adesso Giocare da solo È veramente È un po' triste Anche Però penso Che sarebbe Molto più Figo E bello Giocare Con i tuoi Amici Fare Dei team E poter Andare avanti Per esempio Questa è stata conquistata Però è enorme Io sto capendo Che le mappe Qui sono enormi Non dico sopra Oh cazzo Putta Ok Prima morte Lasciato Bastardo L'assalto Leggero È un'unità Di santeria A breve E medio Raggio Dotato Di jetpack Per la massima Mobilità Che può Rapidamente Affiancare Le postazioni Bene Se tu lo dici Ho preso Un portale Molto più Lontano Quindi Doviamo andare Su A E su C Ah L'ho conquistato Oh cazzo Ah Lo stiamo conquistando Va bene Va bene Va bene Va bene Non mi sbagliavo Infatti Mi fa ricordare Molto Mech Ma dove stanno I nemici Ma dove stanno Vedo un carro armato Non sto scappendo Una mazza Eccoti Ok Ok E' un macello Ragazzi Lo sto capendo Una mazza Devo andare Beh Andiamo a subì Dai Perché è l'unico Da conquistare Oh Prima assistenza Bene Oh Livello 1 GG Dai buttiamoci Una mischia Ok Mi pare Che Quando stanno Riprendendo B E' ricarica Ok B Abbiamo Mora Quindi Penso De andare Mamà Porca miseria Gremis El azote del mar Bastardo LOL Ragazzi Ragazzi Veramente Enorme Per il momento Sto capendo Ben poco A quanto pare In questa missione In questa In questa Mappa Bisogna difendere Le posazioni A B E C Ecco No E comunque E' difficile E' un po' difficile Distinguere Ovviamente Gli nemici Da Dai Dalli Aliati Dei tue compagni Ma quanti siamo Voglio capire Quanti siamo Ma penso Di essere Più di trentadue Ok Abbiamo preso Il C Adesso Possiamo Andare Madonna Quanti morti Bocca miseria E' troppo E' enorme E' proprio enorme Questo Planet Sight Cassinatissima Oh 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 Stanno prendendo C Di nuovo Andiamo su C Mamma mia E no Qua bisogna Spostarsi con i Metsir Tipo alla Battlefield Ok ragazzi Visto che i miei compagni Hanno ripreso C Quindi possiamo Andare oltre Quindi non mi sembrava Il caso Di Di entrarci Perché per fare C il giro Bisogna Percorrere 5 km E' troppo Grande Questo gioco Non sto facendo Una mazza A Andiamo su A Disse fra 50 metri Se accidentalmente Colpisci un alleato Sentirai un suono E apparirà un'icona Non sparare Sul mirino Va bene Va bene Scusatemi Non volevo Prendiamo A Muori Oh No Chi mi ha ucciso E perché sono morto E si E perché sono morto Ah forse un imbecille Mi ha sparato Ah Va bene Peccato che non ha Ho visto Ho visto Oh Porca miseria No Sono morto Di nuovo Questa sorta Del mar Ha rotto il cazzo No Ma a me non mi puoi far ripopare Da qua dietro C'è di tutto C'è di tutto Questo gioco Torrette Trasportatori Mamma mia Lo abbiamo proprio Massacrato Quello Ok Ok Stare attento Un po' Qua Stando dall'altra parte Porca Put Come sono morto Ah Mi ha coltelato Bravo Bastardo Che sparì Madonna Eh Te l'ho visto Stronzo Bene Entriamo Entriamo Muori Muori Vabbè Vabbè Andate bene Tranquil Usate ragazzi La sanguetza Orca miseria Facciamo un po' Il giro Vediamo se le prendiamo Dai fianchi Sì 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 Bastardo Da dietro Ma quanti Oh ma La stiamo prendendo Cavolo Eh Riprendiamo le Le posazioni Cavolo Andiamo al primo A Poi andiamo al B Magari Mori No Dove cazzo È uscito Femina pure Per il momento Il mio personale È molto gofo Ha pochissime Ha pochissimi Parks Forse più in là Salendo il livello Mi sbloccherà Qualcosa Di nuovo Perché ho visto comunque Porca miseria Che mira di merda Che ho Ce ne sono i medici Pure che curano Ok 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 Mori Mori Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto In fondo No Porca miseria Stronzo Tempo di ricaricare Muori Nooo Non ce l'ho fatta Il mio Che cazzo Di fucile C'è quello Ma C'è il danno Ok c'è anche Il coltello Posso Ma c'è il danno Di caduta Qui Sì C'è il danno Di caduta Puoi riarmare I veicoli di terra E le torri Di rifornimento Munizioni Come Ciavolo Si fa Oh Bellissimo Il jackpack Era anche questo Vabbè Grazie Oh Questo è un aliato nostro Ma invece Era avanti Come delle capre Perché non prendete B o C Cazzo 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 Sotto di me Coi Coi Ah cazzo Scusami Scusami Non sapevo I punti griff Va bene Va bene Mi danno una punizione Insomma Se spado troppo I miei aliati Perché ovviamente Mi faccio Mi faccio male Comunque Buona cosa Cosa Ah Io chelonkio Chelonkio Il Figo Il jackpack Non sapevo Che figata Cazzarola Che caos Mamma mia Oh Oh Il mio carissimo Mi ha mandato un messaggio Adesso No Non è morto Non è morto Maldetto Non so comunque Quanti siamo Voglio capire Cioè Finisce Questa partita Fra due ore Madonna mia Quanto mi sparano C'ho il jackpack Anche Porca troia Beh Assistenza almeno Sì ma come si lancia Le granate Ah Boss Assalto Leggero Infiltrato Ma Adesso Ho capito Infiltrato Assalto Leggero Medico Di campo Geniere Bloccato Ancora Assalto Assalto Pesante Max Vabbè Dai Non ho manco la minima idea Delle altre classi Stavo giocando soltanto la classe Oh Cazzo Diamine Ma ci stanno respingendo E non va bene Muori Tutti sono qui Muori 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 Via 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 Nasconditi 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 Ok Posso Non mi ha visto Non mi ha visto Che figata Muori Livello 4 No Si è vindicato Lo stronzo Va bene Massiccio Carro armato O A APC Dove vai Dove vai Muori Vuole scampartela Scampartela pure Stronzo Ok Muori Muori Di nuovo tu Immagina Mi vuole bene Mi ama Muori Mi starò odiando Muori Via 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 Mamma mia Che scappata Che ho fatto Eh si 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 Il gioco Ma Quanti sono qui Corri Corri Che stupido Che sono Potevo uccidere un macello Potevo uccidere un macello di gente Ma Vabbè Vabbè Quanti 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 c'erano lì Quanti c'erano lì Ok Grazie Lo avete ucciso Muori Stronzo Ma Vabbè Ma Te ne va Disattiveremo le tue armi Ho capito Bene Entro morto E' molto dispersivo Le mappe enormi La mappa è enorme Porca miseria Ricarica Ricarica Grande, grande Ricarico, copritemi